In apertura le elezioni politiche. Dal 6 al 9 settembre Confartigianato Imprese Veneto ha condotto un sondaggio con il sistema Cati per capire le necessità dei piccoli imprenditori. Sentiamo il commento del presidente di Confartigianato Imprese Vicenza Gianluca Cavionna. Il sondaggio di Confartigianato Veneto ha messo in luce le necessità di noi artigiani, una maggiore attenzione alle imprese e al territorio, un fisco più equo, meno burocrazia e una vera strategia per superare il caro bollette. Questi temi dovrebbero essere tra i protagonisti dei primi provvedimenti del nuovo Parlamento. Non è possibile che le imprese non siano messe nelle condizioni di poter lavorare e competere. Si prendano in mano dopo il voto e dopo ciò che abbiamo sentito in campagna elettorale i temi veri del Paese a partire da quelli più urgenti. Occorrono scelte decise e concrete in tema energetico affinché le imprese possono dare continuità al lavoro e all'occupazione. Si agisca a livello nazionale ed europeo ma lo si faccia subito altrimenti sarà troppo tardi. Tra le riforme non più rimandabili c'è anche quella del fisco e della giustizia. La tassazione deve essere equa e la giustizia deve funzionare bene, sicuramente con tempi migliori di quelli che oggi siamo abituati. Anche il tema dell'autonomia è un tassello fondamentale. I colleghi nel sondaggio si sono dimostrati disillusi, invece va perseguita con determinazione come obiettivo irrinunciabile per responsabilizzare l'intera spesa pubblica. Come associazione vogliamo anche evidenziare l'importanza del tema del capitale umano, punto fondamentale per la continuità delle nostre imprese. Abbiamo bisogno di persone capaci e ciascuno deve fare la propria parte, imprese e istituzioni. Per altri contenuti video cliccate i riquadri qui a fianco e per non perdervi i nuovi contributi iscrivetevi al canale. Grazie per la visione.